amici escursionisti buongiorno oggi sono ancora con i camminatori di lo grato e siamo presso la malga cadino sulla strada che dal passo croce domini porta al gaver e il nostro obiettivo di oggi è il passo di blumone transitando per il lago della vacca e per il rifugio titasecchi è una giornata estremamente limpida tira un forte vento freddo e questo ci fa rapprevidire però il paesaggio l'ambiente non è mai stato così limpido come in questa occasione mai ho incontrato un paesaggio così limpido il video che ho fatto mostra delle belle immagini e parecchio ha indugiato su questi grandi panorami io vi auguro a voi una buona visione e ci sentiamo alla fine del video grazie ciao 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 il video termina qui vi ringrazio per essere stati in compagnia dei camminatori di Lograto e di Rodengo Saiano vi do appuntamento alla prossima settimana Grazie